I carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese e della compagnia Lanusei nei giorni scorsi hanno dato esecuzione alla misura cautelare di interdizione dal pubblico servizio dell'insegnamento per il periodo di un anno nei confronti di una delle due insegnanti di una sezione della scuola dell'infanzia di Santa Maria Navarrese che lo scorso anno scolastico si era resa responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti degli alunni. La misura è stata adottata dal Tribunale del Reesame di Cagliari su richiesta del pubblico ministero Gualtiero Battisti che ha coordinato l'indagine svolta dai carabinieri. L'inchiesta era partita dopo le denunce di alcuni genitori. I militari si erano attivati e avevano posto sotto controllo le insegnanti. L'attività tecnica ha portato avanti dai militari coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanusei. Ha portato a documentare e spiega una nota dell'arma le urla e le punizioni ingiustificate ed eccessive in relazione alla tenerissima età, tre anni dei bambini, loro affidati ma ancora di più per impedire la prosecuzione del reato quando è stato chiaro che il loro comportamento era sconfinato in veri e propri maltrattamenti verso i bambini e i loro affidati. Il Ministero dell'Istruzione, su segnalazione della Procura della Repubblica di Lanusei, aveva adottato nei confronti delle due insegnanti un provvedimento amministrativo di sospensione dalle funzioni fino al termine dell'anno scolastico 2018-2019. La Procura della Repubblica aveva chiesto un provvedimento cautelare che è stato respinto dal GIP del Tribunale di Lanusei, ma dopo l'appello del pubblico ministero è stato disposto dal Tribunale del Reesame. Le due insegnanti sono indagate per i maltrattamenti, ma solo una di esse è stata raggiunta dal provvedimento cautelare in quanto sarebbe l'autrice diretta della maggior parte dei maltrattamenti accertati nel corso delle indagini.